Ciao a tutti, nabbie e nabbe e benvenuti su League of Legends, un gioco che senz'altro non ha bisogno di presentazioni. Questa sera ci daremo a Dunaram, che è una versione con meno strategia rispetto alla landa degli evocatori e avremo anche il discorso della casualità, quindi non abbiamo dei personaggi predefiniti da scegliere, ma ci verranno attribuiti dei personaggi casuali. E quindi, stai per vedere. Vediamo un po'. Come impone l'equilibrio? Ah, cali. Ok. Prima po' a fare una cosa pazza, che è la versione tank. Nella versione tank. Vediamo un attimo che succede. Siamo prossimi al rework di Akali e... non so come sarà sinceramente. queste. Allora, noi cerchiamo di andare tank, quindi... vediamo un po'. Potremmo farci un'ivra titanica a questo punto e iniziamo così. Benvenuti nell'abisso unulante. Quindi, essendo tank, ogni volta che utilizziamo... Minioni iniziamo la stessa via. Innanzitutto dobbiamo lanciare il poro. Qu'è bello che c'è? Olé Non è riuscito a schivare Il terzo colpo di Eh, magari non ci arrivo Non è riuscito a schivare 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 No è riuscito a schivare Non è riuscito a schivare Grazie per la visione! Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione